Un'esperienza di navigazione più semplice, diretta e vicina alle esigenze degli utenti, che racconta in modo chiaro e trasparente l'identità, la mission e i valori di Gori. E' questo il principale obiettivo a cui risponde il nuovo sito web www.goriacqua.com completamente rivisto nell'alberatura dei contenuti nella veste grafica. Tra le funzionalità introdotte per rispondere ai reali bisogni informativi degli utenti, una chatbot presente sulla pagina chiedi a Gori, che presta assistenza su alcune delle informazioni più richieste come autolettura del contatore, verifica dello stato dei pagamenti e reset della password di accesso all'area clienti MyGori. Il potenziamento dei canali digitali rappresenta uno degli asset su cui Gori è da tempo al lavoro, in ottica di efficientamento e ottimizzazione dei processi, miglioramento della relazione con gli utenti, accessibilità e disponibilità dei servizi H24, dichiara l'amministratore delegato di Gori Vittorio Cuciniello. Si tratta di un canale dove aziende e territorio si incontrano e in cui è essenziale essere al passo con stili e linguaggi contemporanei, ma non solo, sottolinea Mara Dedonato, responsabile comunicazione CSR di Gori. Immerciti, esplora e scopri è il climb della campagna di comunicazione, pensata soprattutto per gli strumenti online. Attraverso una clip viene evocata la fluidità, il movimento e la trasparenza dell'acqua. La campagna viaggerà soprattutto sui canali social aziendali Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube, sulle pagine web e social delle principali testate e sui circuiti di comunicazione digitale allestiti in alcune delle più importanti stazioni del territorio.